No! No vabbè abbiamo anche iniziato a farvi Prima giocavamo a Perfect Dark Ok Direi che poi stasera vi saluto Proviamo la prossima volta al boss Eh ormai si Cioè nel senso se lo uccidete senza di me no Guarda quante robe, è incredibile Sono più tomba che porta Ma perché qua sono qui? Cioè, ma perché ci sono due NPC qua sopra? Boh Ovviamente qua sotto di cazzo Oddio Siamo nascosti il povere boss Ah e sono bloccato C'è sicuro è andato Quindi cosa dovete fare? No vabbè No vabbè Per me lo possiamo abbia smettere qui Cioè stanno ancora di boss a occhio però Quello se poter lo uccidere per esempio Mh 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 Il Facciamo quello? Eh sì però bisogna aspettare una trama Un po' degli occhi No che po' non c'è Cazzo adesso sei Maggio C'ho messo 20 minuti con te da fermo Massacrato a tradimento Mh 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 voglio farmi la mia armatura di titanite di adamantite ok ma prima ho trovato un punto sotto all'inferno che era pienissimo di adamantite adesso lo ritrovo è tornata la vostra infermiere mi serve giusto decido è troppo tardi mi riesco a mostrare questa zanzieretta che vola intorno al mio computer mi sta distraendo in questo ma Minecraft non c'è sostegno cosa? minecraft non c'è su steam sai che non lo so forse no vediamo vabbè ma perchè prima o poi ci giocheremo si può giocare anche senza io ce l'ho già l'avevo preso in alfa no comunque non c'è sostegno è strano l'avevo l'avevo è 잠깐 che FILM ssssss ssssssss sssssss e sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssjssjsssjh Italia Weso la televista